Il problema. Il vostro impianto impianta, senza stoppere, una scena scena di paper. Il ritorno di ritorno si torna continuamente. Il impianto prende più di una pagina a un tempo e fa un peggio. Probabilmente il problema è il solenoide. Il solenoide è questo. È un attivatore per il ritorno di ritorno di ritorno. Il solenoide clicca su e off costantemente e impianta il ritorno di ritorno. Questo è il Samsung ML-16060, ma altri modelli Samsung, come HP, Dell, Browser, Canon e molti altri impianti usano. Il solenoide è spesso attivato dal ritorno di un ritorno. Il ritorno è collegato al ritorno del ritorno di paper. Se l'armo del solenoide è staccato, il solenoide non si rilassa e il ritorno di ritorno di ritorno di ritorno si torna per sempre, quindi il paper continuamente si tratta di ritorno di ritorno e si tratta ritorno di ritorno di ritorno. Cliccate il pad del solenoide. I manufattori di ritorno mettano piccoli padri sui solenoide per mantenerele tranquilli, ma questi padri s'integraono durante il tempo e poi, invece di pad, hai un stickero e si tratta di ritorno di ritorno di ritorno. Ci sono diverse mani di ritorno di ritorno. Puoi solo riportare il solenoide. Assolutamente per comprare il solenoide. Se il solenoide funziona, puoi solo riportare il disintegrazione. Il problema è che il plato metallo viene in contatto con l'elettromagneto e potrebbe diventare magnetizzato perché è troppo vicino al magneto e si tratta, come ha fatto prima di ritorno del pad. Puoi reinstallare un pad sul solenoide, magari più di ritorno per aiutare il solenoide, oppure puoi riportare il plato metallo sul solenoide. Grazie a tutti.